55esimo congresso della Società Italiana di Reumatologia. La struttura di questo congresso, le scelte per quelle che sono le macro aree scientifiche? Il congresso di reumatologia vuole essere la casa di tutti i reumatologi, per cui la struttura del congresso contempla sempre l'approfondimento e l'aggiornamento di tutte le varie aree terapeutiche e diagnostiche che riguardano tutte le malattie reumatiche, dalla prima all'ultima. Oltre a questo ci sono molti simposi che portano alla conoscenza dei partecipanti e dei reumatologi in generale tante nuove acquisizioni farmacologiche per il trattamento, tante nuove opportunità che in questo periodo vengono messe a disposizione. Oggi però invece è una giornata particolare perché, essendo il primo giorno del congresso, ci sono i corsi che si chiamano hands-on, che sono delle opportunità per i giovani di entrare a contatto con delle tecniche particolari, dalla ressonanza magnetica, alla capillaroscopia, all'ecografia articolare, cioè tutte cose che i giovani hanno occasione di vedere da vicino e anche da un punto di vista estremamente pratico. Sempre oggi ci sarà anche, prima dell'apertura ufficiale del congresso, il corso che viene chiamato Review Course. In questa sessione del congresso si mettono a punto o si aggiornano dei temi di attualità. In particolare quest'anno vengono trattati per esempio il problema delle vaccinazioni nei pazienti con malattie reumatiche, il problema della cura delle malattie reumatiche in pazienti che abbiano in precedenza avuto problemi neoplastici, il problema delle varie applicazioni e dei vari possibili pericoli di talune terapie molto comuni come quella con l'idrossiclorochina che viene data molto facilmente. In una parola il congresso SIR dovrebbe essere la casa per tutti i reumatologi e l'occasione di scambiare opinioni ma anche di portare a casa nuove acquisizioni e di poter avere la carica per un nuovo anno di lavoro.